Pregare è seguire Santa Teresa d'Avea che se ne intendeva ha detto con molta chiarezza o smetto di pregare o cambio vita non è possibile pregare e rimanere nel peccato non è possibile pregare e non convertirci è proprio ricordare sempre che la vera conversione viene dalla preghiera e matura nella preghiera perché la conversione è comunione con Dio e solo la preghiera ci dà la comunione con Dio cioè da temere molto delle conversioni che non vengono dalla preghiera gente che fa la scelta di certe angolature evangeliche che propongono più che agli altri che a se stessi e che non hanno niente magari di spirito evangelico perché non vengono dalla preghiera sarà capitato anche a voi di conoscere genti tifosi per la povertà per gli altri soprattutto e che ce l'hanno a morte con quegli che non sono poveri come loro credono, quello non è assolutamente evangelico l'amore della povertà è sempre accompagnato dalla dolcezza infinita dalla dolcezza infinita perché? perché la conversione deriva da questa comunione con Dio fu definito in maniera meravigliosa Papa Giovanni quando fu detto che era viveva naturalmente in maniera soprannaturale e soprannaturalmente naturale gli veniva dalla vita dentro lo stile di vita evangelica che emanava dal di fuori pregare ci porta a seguire quindi curiamo solo di stabilire una forte comunione con Lui e Lui penserà a cambiare la nostra vita grazie a tutti grazie a tutti